E salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Apodbomb Siamo nuovamente su Doom e proseguiamo da dove eravamo rimasti Stavamo proseguendo la salita verso la torre Argent E quindi dobbiamo salire sopra quel bellissimo punto Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo Oltre i livelli di guardia Ma però Non nemmeno accorto di quello Guarda che quello ci tira Un sacco di bombe Devo far fuori prima Eccolo qui, uccisione epica per noi Mamma mia Attenti che ci stiamo distraendo un sacco Attenzione Eh no Eh sì che è lo mio Mamma mia attenzione ragazzi Abbiamo pochissimi colpi rimasti Staggede Staggede Pamma mia che uccisioni epiche ragazzi Spacchiamoli tutti Attenzione abbiamo la salute super ridotta Ma noi ce ne sbattiamo E li spacchiamo tutti Più ci sono epiche possibili ragazzi Vediamo se riusciamo a salire Vediamo se riusciamo a salire Invunerabilità eh Vediamo che possiamo metterla in atto L'invunerabilità Non c'è qualcuno da far fuori con l'invunerabilità Oh sì che c'è Prendiamo anche un po' di Scudi direi Guardate che figata di arena Oh eccolo lì il nostro amico Attenzione Abbiamo un potenzionamento arma Ma noi andiamo a prenderci tutti i colpi Che sono rimasti in giro E Soprattutto l'armatura al massimo ragazzi E i colpi per tutte le armi Andiamo ad esplorare sempre tutto Non voglio lasciare in giro Decisamente nulla Ma nulla proprio Vediamo se qui c'è Sì dentro questa porta Che ora è spenta Credo che noi dobbiamo andare su quel lato però Esattamente Vediamo se c'è qualcosa Prima di proseguire Munizioni E qui abbiamo un nostro potenziamento POM Ancora decidiamo di potenziare Questa volta Sì direi di portare la corazza Sicuramente la corazza Aumentiamo l'accento La vita siamo pieni La corazza siamo pieni Vai La strada con l'inferno E' una sprecata Di energia Agenda Ok siamo Chiuso Quindi abbiamo Dottato a sferire l'energia Teoricamente Oh guardate lì Eccolo lì Il resumo che devo apprendere Ops Vediamo se abbiamo aperto la porta Sull'altro lato Ditemi dove devo saltare però Ecco qui Ok Penso di dover saltare Su questo E poi Su questo Senza male Farlo uccidere Da quello Vero Non si può saltarci sopra Sì posso Posso Perfetto Posso saltarci sopra Aspetta che vediamo Come devo saltare qui Senza morire Questo si abbassa Fa laser Io posso saltare Diciamo E avviarmi Oh guarda Chi sta arrivando Penso che il laser L'abbia sistemato Per le feste Ok Dobbiamo arrivare Su quel lato Perfetto Vabbè Io Vado avanti Intanto Non so come continuare Ragazzi Proseguiamo Che c'è Il cattivo Non credo Ci sono personaggi Altamente tossici Qui quindi Diciamo che più cattivo È questo Lo spacchiamo Tranquillamente Avanti Tutta Mamma mia Che cattiveria Ragazzi Che cattiveria Eccolo C'è il nostro amico Merda Con lo scudo Una sorpresa Per lui Tacche te Hai visto la sorpresa È questo Eh no Volevi Tanto per chiamare Zeb Voleva lui Voleva Questi li spacchiamo Direttamente Tacche te Se li spacchiamo Tutti Con un po' Di pugni Così Ah Vedi 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 Che c'era Un coda Per la sfida Unica Cosa dobbiamo fare Armato fucile a pompa Uccidì dieci Relutanti Con danni Da barile Esplosivo Ok Proviamo Quindi dobbiamo Far esplodere I barili Per ucciderla Dov'è No No Venite 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 Perfetto Ragazzi Non è stato per niente difficile Ve lo devo dire Però ce l'abbiamo fatta Possiamo occupare già una nuova runa Questa ci dà Aumenta quantità di munizioni ricevute dai demoni Aumenta l'efficacia degli oggetti Io direi di mettere questa runa Perché Perché ci servirà Attenzione che lì possiamo usare questo pezzo per saltare sopra Adesso mi sono accorto Usiamolo per passare sopra Ah In realtà lì c'è una cassa di munizioni Diamo se c'è qualcos'altro No Però l'ho vista E quindi Siamo fatto il pieno Perfettamente E guardate c'è un posto Che per passare qui Per andare a prendere L'armatura Pretor Ottimo Ottimo Veramente ragazzi Veramente ottimo Dov'è? Guardate Se ne è dietro di noi Quindi se ne è qua dietro Eccolo qui il nostro token Oh Mega salute abbiamo preso Attenzione Questo Lo ritengo ottimo Adesso lì facciamoci il giretto Andiamo avanti Non puoi impedirmi di reclamare quel che mi spetta di diritto Quel che mi hanno promesso Vecchio mi dispiace ma Abba aggiornata Ok Quindi c'è Marea di armatura Qui sopra Guardate quanto Guardate quanto Siamo saliti Sulla torre ragazzi Guardate Sì A quanto pare sì Mamma mia ragazzi Stiamo per Benvenuto nella UFC Abbiamo i portali degli imperi Con la chiave per il futuro Siamo pronti ragazzi 200 200 di armatura 200 di vita Stiamo per affrontare Il nostro scontro finale Andiamo ragazzi Maledetta Ha aperto il portale E si è buttata nel portale Oh my fucking god Direi che è meglio correre Se uso questa arma così è perché Grazie al milino Grazie al milino Ho i colpi penetranti Devo cercare di spaccare subito quelli più forti In modo da toglierli subito dalle scatole Quindi scusatemi ragazzi Se Eeeh Si rivediamo di questo Sto cercando di distrare i più piccoli Per liberarmene prima Ah lancia fiamme Spacchiamoli tutti Evento dimensionale di categoria 4 Spero che il frame rate tenga Vediamo se ci sono dei segreti qui nascosti Ma dubito Ma guardate che ambientazione Spettacolare Quanto pare siamo arrivati negli inferi Lui chi? Non so cosa aspettarmi in questo posto Siamo nella terra del nemico adesso Ragazzi Stiamo per addentrarci nella tana del lupo Sentite questi versi disumani Guardate che Li vedo una stuina La voglio Guardate qui Ok quindi la nostra squadra era già arrivata fin qui E mi sa che hanno fatto una brutta fine Checkpoint raggiunto Beh ragazzi abbiamo raggiunto checkpoint Io direi che per questa puntata di Doom è tutto Siamo arrivati sul pianeta Marte Guardate che ambientazione fantastica È una cosa spettacolare C'erano sicuramente demoni molto più forti Nuovi nemici Olivia C'è scappata Dobbiamo tornare a casa Quindi Vediamo di fare il nostro meglio Per non farci uccidere Come sempre se il video vi è piaciuto Lasciate un like Iscriviti al canale E alla prossima ragazzi Grazie 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 Ciao